Grazie a tutti. 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 Buonasera a tutti. Niente è già scritto, insieme le cose possono cambiare. In questa città, a Roma, lo abbiamo dimostrato tante volte, nella regione Lazio, lo abbiamo saputo dimostrare. Oggi è per me una grande, grande, grande emozione aprire la nostra campagna di impegno per le prossime elezioni politiche qui nella sede di Via di Portonaccio, aprendo la casa delle volontarie e dei volontari per l'Italia democratica e progressista. Per noi, per Roma è un luogo speciale perché è il luogo che ha ospitato il Comitato Gualtieri, il luogo dove abbiamo costruito la battaglia politica che ha consentito a Roma di avere un sindaco come Roberto Gualtieri. Una vittoria che abbiamo costruito andando incontro ai Romani uno a uno proprio un'estate fa e costruendo veramente insieme alle persone quella che poi è la prospettiva che abbiamo dato alla città. Ed è per questo che apriamo l'incontro di oggi proprio con l'intervento e siamo felici di averlo qui da sindaco, del nostro sindaco Roberto Gualtieri. Grazie, grazie Andrea, grazie a tutti voi, a tutte voi. È davvero per me una emozione straordinaria oggi tornare qui in questo comitato che ci ha visto insieme, per condurre una battaglia appassionante, unitaria e che ci ha visto vincere le elezioni a Roma tutti insieme. Ed è davvero bello che questo sia il luogo in cui partirà la nostra campagna per vincere anche le prossime elezioni politiche. E vincerle insieme con questa grande unità e solidarietà che ci ha dato la marcia in più a Roma. Noi abbiamo sentito la vicinanza, il sostegno, il supporto concreto di Enrico Letta, del Partito Democratico, di Nicola Zingaretti, dello straordinario governo regionale, di Andrea e di tutto il gruppo dirigente del PD. Insieme però abbiamo anche fatto una grande operazione di allargamento e di partecipazione dal basso, politica e civica e io penso che questo stesso spirito di unità, di fortissima solidarietà tra tutti noi e al tempo stesso di allargamento, di apertura, di incoraggiamento alla partecipazione democratica, la riscossa sociale e civile sarà la vera carta che ci farà vincere le prossime elezioni politiche. Oggi io penso che, e vorrei davvero ringraziare Enrico per aver gestito in modo magistrale un passaggio delicato, oggi noi abbiamo dimostrato che noi non siamo qui per partecipare ma siamo qui per vincere, abbiamo dimostrato che siamo in grado di costruire un'alleanza larga, forte, credibile e al tempo stesso so che la nostra linea per questo è bello essere qui e ringrazio anche davvero Silvia Roggiani per aver accettato questo impegno, io la conosco a Bruxelles, è bravissima, la numero uno vedrete, davvero straordinaria. Noi non facciamo solo un'alleanza politica, noi mettiamo in campo le cittadine e i cittadini che vogliono dire no all'idea che l'Italia vada in mano alla destra peggiore d'Europa, è una cosa inaccettabile e che noi non faremo accadere e lo faremo non però solo ricordando a tutti chi sono gli amici di Orban, di Putin, di Kaczynski, come si sono opposti alle nostre battaglie per cambiare l'Europa, per mettere in campo il recovery plan, per andare sulla strada della sostenibilità ambientale, per superare le politiche di austerity, noi lo faremo su un messaggio positivo, un messaggio che ci dice dobbiamo andare avanti sulla linea importante che abbiamo perseguito in questi anni e col governo Draghi, la linea che ci ha portato prima a far cambiare l'indirizzo dell'Europa e a superare l'austerity, che ci ha portato adesso col governo Draghi a essere capaci di rispettare tutte le scadenze del PNRR e di avere anche, fatemelo dire, un governo amico della capitale, un governo che ci ha sostenuto, che ci ha aiutato e che per questo deve essere il punto di partenza di una grande proposta positiva per il Paese, una proposta che dice l'Italia è Paese membro e fondatore dell'Europa, non ci può essere spazio in Italia per un governo anti-europeo, nazionalista, populista, ma poi una proposta che dice noi siamo qui questo Paese, non solo per assicurare la sua credibilità internazionale, la sua solidità, la sua affidabilità, ma noi siamo per questo Paese per cambiarlo e per farne il protagonista del Green New Deal, della svolta per la coesione sociale e territoriale, per la svolta di chi pensa che l'innovazione e la digitalizzazione non devono servire a distruggere il lavoro ma a creare buona occupazione, a chi dice che i salari devono essere equi e non si può fare lo sfruttamento dei lavoratori con contratti selvaggi e precari, a chi dice che lo Stato sociale si difende e si rilancia con la fiscalità progressiva e che si contrasta l'evasione fiscale, non si fanno i condoni, se no andremo verso il modello in cui ti chiedono se hai la carta di credito prima di curarti in ospedale. Noi siamo andati su una strada opposta, grazie anche al lavoro della Regione Lazio, di Nicola Zingaretti e di una Regione che ha dimostrato che si può governare bene per i principi costituzionari, per il welfare, per l'equità, per lo sviluppo e per l'innovazione. Ecco, noi questi contenuti positivi adesso li dobbiamo mettere in campo e noi come amministrazione comunale e come questa grande comunità che sta lavorando per trasformare e rilanciare Roma ci dobbiamo sentire impegnati, protagonisti in questa sfida decisiva per il futuro dell'Italia. Quindi mettiamocela tutta, lavoreremo tantissimo, sarà un'estate calda ma piena e appassionante, siamo una grande squadra e siamo anche una grande comunità solidale e questo elemento sarà quello che ci darà la marcia in più. Quindi andiamo a vincere queste elezioni, dimostriamo che l'Italia può avere un grande futuro di rilancio e di cambiamento. Grazie. Grazie Sindaco. Le elezioni non si vincono guardando i sondaggi ma si vincono con le idee, con la passione, con l'impegno e si vincono anche rovesciando quelli che sono i pronostici e noi a Roma, nel Lazio, l'abbiamo fatto tante volte ed è un piacere, un onore dare la parola a Nicola Zingaretti. Allora, qua in questo bellissimo comitato di Roberto ci siamo visti un anno fa in un clima non solo atmosferico ma anche politico difficile e in questi anni tanti a Roma, nel Lazio, insieme, le abbiamo affrontate tutte anche battaglie molto molto più difficili di quella che abbiamo davanti. La costante di questi anni però è non aver mai ceduto al senso comune, al pessimismo, ma aver sempre messo al primo posto l'Italia, il bene comune, la necessità di combattere, la necessità di mobilitarsi. Perché nelle campagne elettorali contano i voti ma le campagne elettorali sono determinate dalla passione, dalle persone, dalle idee, dalla squadra, dalla percezione che dobbiamo e possiamo dare di essere la speranza per questo Paese. E anche questa volta deve scattare e scatterà questo segnale. Perché la campagna elettorale certo la farà Enrico, la farò io, la farà Roberto, la farà Silvia, la faranno i candidati, le candidate, ma la differenza la si fa al mercato, al bar, sull'autobus, dentro il posto di lavoro, nella scuola, nell'università, tra gli amici ed è quello che deve partire. E quindi bene, grazie, perché oggi si apre il luogo principe della battaglia delle idee per la salvezza dell'Italia, che è la casa delle volontarie e dei volontari della campagna elettorale. E noi dobbiamo dire a Roma, a Lazio, venite tutti, venite tutte e tutti, venite qua, perché c'è una missione da compiere. E anche un messaggio chiaro. Grazie Enrico, perché già sulle mura di questa sala ci sono le idee, le proposte, dove vogliamo andare, quali sono gli obiettivi. E se c'è una cosa sintetizzabile, l'obiettivo principe e primario che noi dovremmo dire alle persone è che noi vogliamo vincere, perché noi vogliamo che le persone vivano meglio di come vivono adesso. Questo è il punto. E non ci rassegniamo all'idea di un declino. Noi vogliamo che le persone vivano meglio di come vivono adesso. Questo è il punto della battaglia politica. Ma lo dice anche la destra, lo dicono anche i populisti. No, perché le politiche populiste non sono politiche popolari. Perché raccontano i problemi, ma non li risolvono mai. Anzi, campano sui problemi delle persone. E quindi se non c'è una politica popolare che ha l'ambizione di mettere la condizione umana delle persone al centro del progetto, chi sta male starà sempre peggio. perché in quel dolore del ragazzo, della ragazza, del precario, dell'imprenditore, della pensionata, del malato che vive il brodo nel quale l'antipolitica e la destra populista si nutre. E lo abbiamo dimostrato. L'abbiamo dimostrato in Italia, nei governi nei quali siamo stati in questi anni. Dicono, ma voi avete governato sempre. Sì, e meno male che abbiamo governato noi quando c'era il Covid. Perché di fronte allo tsunami peggiore della storia del dopoguerra e del secondo dopoguerra è accaduto un piccolo particolare, un virus sanitario che ha cominciato a uccidere esseri umani. E ci voleva coraggio. E ci voleva determinazione. E ci voleva passione. non per cavalcare come hanno fatto le paure delle persone dicendo, ma le mascherine forse sì, forse no. Non per prendere in giro e allontanarsi dalle scelte dolorose come il lockdown, il coprifuoco, il distanziamento sociale. Ma ci voleva una parte d'Italia che non negava la drammaticità del virus ma indicasse una soluzione, una speranza per dire agli italiani è dura, è durissima. Non ce l'aspettavamo, però vinceremo noi. Abbiamo governato e abbiamo vinto noi. Hanno vinto le persone. Ha vinto la scienza. Ha vinto la medicina. Ha vinto l'Europa. Perché ora si parla della guerra in Ucraina ma se non c'era quell'Europa e fatemelo dire se in Italia non ci fosse stato quel ministro del tesoro che era Roberto Gualtieri a governare l'economia italiana oggi tante aziende non ci sarebbero più e tanti posti di lavoro non ci sarebbero più. Ecco qual è la battaglia. Ora la parte sanitaria del Covid sta andando dentro la storia dell'umanità ma il Covid ha lasciato sul tappeto qualcosa forse addirittura di peggiore di più complesso e questa è la paura è la paura del futuro è la paura di chi fa impresa di chi è precario ha paura di rimanere tale della famiglia del ragazzo o della ragazza del nonno della nonna di un paese che nel 2021 ha fatto neanche 400.000 nuovi nati perché i giovani non fanno più figli ma non perché non vogliono ma perché hanno paura del futuro e quindi noi siamo di nuovo chiamati a una missione nazionale non di permettere mai che le paure delle persone vengano cavalcate ma di essere quella proposta quella speranza che trasforma la paura in speranza e non in rabbia nella ricerca di un nemico indicano sempre un nemico e guarda caso è sempre l'ultimo della fila ma quando non andiamo in banco alle poste o davanti a una fila non è che io passo avanti se ammazzo chi c'è dietro è un'infamità prenderla sempre con qualcuno per non risolvere il problema che noi abbiamo davanti ecco perché dobbiamo buttarci nella mischia dicendo cose semplici come questi bellissimi manifesti più lavoro non vergogniamocelo di dire noi abbiamo lottato grazie all'Europa per avere il più potente e massiccio investimento di risorse pubbliche della storia del secondo dopoguerra solo nel Lazio stanno arrivando 16 miliardi di euro in 5 anni e quindi noi vogliamo essere quelli che dicono certo li spenderemo l'abbiamo voluto noi ma noi vogliamo spendere per rendere questa società una società con meno disuguaglianze se vince la destra sarà lo stesso no e quindi noi dobbiamo essere quelli che dicono più lavoro più scuola conoscenza più salari non perché siamo matti ma perché l'articolo 36 della Costituzione dice che ogni lavoratore ha diritto a un salario collegato al tempo e alla quantità di lavoro che produce e comunque che permette al lavoratore di crescere in piena dignità chi difende la Costituzione nella prossima campagna elettorale noi dobbiamo essere e quindi e chiudo mettiamocela tutta la passione possibile lo faremo in tutta Italia con un gruppo dirigente nazionale che sta combattendo giorno per giorno colpo su colpo con un'idea chiara un partito con idee chiare e un'alleanza che lo fa diventare competitiva e un segretario che ha la pazienza di Giobbe e produrrà i risultati che sta producendo accanto a questa linea oggi servono la passione di un popolo di persone e venga in questo comitato mi permetto di dire faccio un appello non venite solo coloro o voi che avete scelto di votare venite tutti venite dai pianerottoli dai quartieri dai bar venite dalle scuole se ci sarà bisogno nei primi giorni di settembre venite a fare campagna elettorale voi che avete paura voi che volete aprire un'impresa voi che avete un bar un ristorante voi che siete ricercatori universitari voi donne uomini ragazze e ragazzi che non volete perdere la speranza venite nella casa dei volontari certo per il voto al PD ma anche soprattutto per il voto per il bene dell'Italia per non permettere che quelle paure che ci sono diventino il brodo nel quale attecchisca come può attecchire la rabbia e lo spirito antidemocratico e questo è possibile accadrà nei prossimi 60 giorni e questa sarà una bellissima esperienza di vita perché potremo raccontare che è stata dura è stata durissima ma abbiamo combattuto e abbiamo vinto come vedrete ce la faremo ciao a tutti grazie grazie Nicola questo spazio sarà aperto ogni giorno a tutte le persone che vogliono dare una mano anche chi ha solamente un'ora di tempo da dedicare a questa battaglia politica può farlo lo può fare in presenza venendo con noi partecipare all'attività ma lo può fare anche in maniera telematica lo può fare anche iscrivendosi attraverso il sito e lo può fare grazie a un lavoro che è stato avviato dalla segretaria del Partito Democratico di Milano che oggi è coordinatrice nazionale dei volontari e delle volontarie Silvia Roggiani accogliamola con un applauso sono contento di dare la parola a Silvia perché nelle battaglie politiche che abbiamo combattuto che stiamo combattendo sta nascendo anche una nuova generazione di impegno politico e Silvia la rappresenta e io penso che sia positivo per tutti noi e per tutti noi che si è chiamata tu dal nostro segretario nazionale a guidare questa parte fondamentale della campagna elettorale grazie è un onore per me essere qui e soprattutto è un onore pensare che saremo in tante e tanti a provare a cambiare l'Italia lo ha detto prima benissimo Nicola Zingaretti noi vogliamo parlare a quei giovani che pensano che il loro futuro è possibile solo fuori dall'Italia vogliamo parlare a quelle donne che oggi si trovano nella condizione di dover scegliere se creare una famiglia o avere un lavoro più stabile vogliamo parlare a chi pensa che la precarietà sarà una condizione definitiva della propria vita vogliamo parlare a tutte quelle generazioni che si guardano indietro guardano i propri genitori e non ce l'hanno più la certezza che la loro vita sarà migliore di quella che li ha preceduti vogliamo parlare ai loro bisogni ma non solo noi vogliamo parlare ai sogni delle persone perché dopo questi due anni dopo questi due anni di paura di angoscia in cui tutto ha schiacciato molto di più la vita di tante di tanti in cui tante tanti si sono trovati confinati in una situazione di disagio ancora più forte noi vogliamo dire alle italiane e alle italiane potete ancora riappropriarvi dei vostri sogni come? con delle proposte concrete le trovate qui appese le trovate per le strade nelle piazze il partito democratico vuole ascoltare i bisogni e trasformarle in proposte trasformarle in realtà dare alle persone una possibilità nuova di vedere un destino che come diceva Enrico Letta non è scritto perché il destino lo scriviamo noi e lo vogliamo scrivere insieme alle persone che cosa succede adesso con le volontarie e i volontari sono in tantissime le persone che hanno voglia di essere protagoniste la politica che da troppi è stata raccontata in modo negativo invece la politica è il momento è il luogo per poter davvero cambiare la vita delle persone non solo la nostra anche quella di chi verrà dopo qui vedete il manifesto sull'ambiente abbiamo visto le tante ragazze e i ragazzi scendere per strada per ricordare alla politica che non c'è un pianeta B che il tempo sta per scadere e allora anche a loro noi vogliamo parlare e cosa faremo con i volontari saremo vicino alle persone lo saremo a partire da agosto perché purtroppo sono tantissime le solitudini anche nelle città delle persone che non possono andare in vacanza e noi saremo lì con le nostre volontarie e i nostri volontari con momenti di socialità dove la politica per tanto tempo magari non è arrivata o dove siamo arrivati noi ma non siamo riusciti a convincere le persone che potessimo essere davvero l'alternativa per la loro vita e allora vogliamo farlo tutto agosto nelle strade nelle piazze e poi dal 25 settembre una grandissima mobilitazione che ci vedrà ovunque ma per farlo abbiamo bisogno di tutte e di tutti voi abbiamo bisogno anche di superare quella paura che un po' ci spinge a non parlare della politica anche magari con chi ci sta vicino e invece raccontiamo anche alle persone fuori dalla nostra cerchia quanto questo momento è importante ci sono persone che sono morte per darci il diritto di voto il voto quel momento quella matita cambia la vita delle persone ricordiamoci da dove arriva e ricordiamo a chi oggi non è spinto ad andare a votare che c'è un'alternativa che quell'alternativa è il nostro sorriso è la nostra volontà di accogliere i loro bisogni i loro sogni i loro problemi e trasformarli in risposte ma per far questo per l'Italia per il Partito Democratico abbiamo bisogno di tutti e tutti voi andate sulla piattaforma partecipa punto partito democratico punto it ed entrate a far parte di questa bellissima squadra solo insieme possiamo davvero cambiare le cose grazie Silvia vi ha invitato a iscrivervi e iscriviamoci ma ci si può anche iscrivere personalmente io inviterai Ludovico Di Traia che è il coordinatore regionale dei volontari e delle volontarie così se si avvicina lo potrete vedere lo salutiamo un attimo chi non ha ancora dato la propria disponibilità noi da domani siamo operativi lo può fare incontrando Ludovico e tutta la squadra di volontari e volontarie che si stanno mettendo a disposizione un applauso a loro e nel ringraziare i ragazzi le ragazze che hanno reso possibile anche questa giornata montando a tempo di record questo spazio fatemi fare un ringraziamento ulteriore perché noi oggi siamo qui con le elette con gli eletti con le militanti militanti del partito democratico ma la lista progressista e democratica è fatta di tante forze politiche che hanno raccolto l'appello del segretario Enrico Letta le vedo qui voglio ringraziare Demos voglio ringraziare articolo 1 voglio ringraziare il partito socialista italiano vedo Paolo Ciani Piero Latino Andrea Silvestrini tante e tanti che hanno deciso di esserci di giocare la partita di fare il massimo per scrivere veramente una storia diversa da quelle che altri hanno provato a raccontare in questi giorni e questa storia diversa la scriveremo al fianco di Enrico Letta grazie grazie davvero grazie a tutti voi io voglio cominciare semplicemente facendo una riflessione sul tempo due settimane fa due settimane fa c'era il governo Draghi che si stava preparando ad andare in Parlamento in aula per chiedere la fiducia sono passate due settimane sono passate le due settimane più matte più incredibili della storia politica italiana perché in queste due settimane ci sono state delle forze politiche che hanno deciso di fare un danno enorme al nostro paese hanno deciso di far cascare il governo che stava negoziando con i sindacati di dare alla fine dell'anno una mensilità in più a tutti i lavoratori un danno incredibile che le forze politiche che hanno deciso di far cadere il governo si sono assunti questa responsabilità in quel momento eravamo in una discussione difficile complessa su come far ripartire un'agenda sociale che il discorso del Presidente del Consiglio in aula mercoledì mattina 13 giorni fa aveva messo la lotta alla precarietà al primo posto il tema di cambiare e di cambiare definitivamente nel nostro paese le regole con le quali i contratti di lavoro oggi finiscono per essere purtroppo i migliori alleati di una condizione di vita precaria e sappiamo che se c'è una cosa fondamentale nel nostro paese oggi è dire con chiarezza a tutti che la stabilità la prospettiva di sicurezza è fondamentale per ogni lavoratore per ogni lavoratrice per tutte le famiglie italiane e per dire con grande forza ma veramente con tutta la forza di cui noi siamo capaci che quello che c'è scritto lì mai più finti stage cioè quella scelta di dire basta con i tirocini gratuiti basta con gli stage gratuiti a un giovane il primo lavoro deve essere un lavoro pagato bene e in quella giornata in quel discorso che veniva poi portato avanti dal ministro del lavoro di quel governo il nostro Andrea Orlando c'era al primo punto all'ordine del giorno l'introduzione in Italia di un salario minimo che eviti che ci siano lavoratori in Italia che guadagnano meno di 8 9 10 euro l'ora oggi sono 4 milioni i lavoratori in Italia che guadagnano una cifra che è assolutamente non di dignità motivo per il quale quell'altro manifesto lì il lavoro è dignità e se non è dignità la nostra politica vuol dire che non è all'altezza mi piace ricordare questi manifesti e questa data di due settimane fa per un motivo molto semplice in due settimane in 13 giorni il partito democratico ha dimostrato di essere oggi il partito che ha più a cuore il futuro del nostro paese innanzitutto per le scelte politiche che abbiamo fatto in quei passaggi e poi perché in 13 giorni oggi siamo qui siamo qui con la nostra campagna che è una campagna sui temi come avete visto è una campagna positiva lì ci sono le cose che noi vogliamo fare che noi faremo alcune di quelle cose fanno parte del programma del governo Draghi altre non sono parte del programma del governo Draghi perché quello era un governo di unità nazionale in un governo di unità nazionale ovviamente alcune cose non erano possibili se penso per esempio al tema che a noi sta particolarmente a cuore se mi si chiede dimmi qual è la cosa della quale ti sei vergognato di più come parlamentare il giorno che è terminata la legislatura io non ho nessun dubbio il fatto che noi avevamo promesso a centinaia di migliaia di ragazzi italianissimi dentro che sarebbero diventati italiani anche nel passaporto e quei ragazzi sono ancora in attesa di una promessa che le nostre istituzioni non per colpa nostra non sono state in grado di soddisfare in queste due settimane in questi dodici giorni non soltanto siamo qui con le nostre proposte questo qui lo trovate in tutte le stazioni penso che tanti di voi bazzichino la stazione termini ieri mattina per me tornando è stata una bellissima sorpresa arrivare e vedere che eravamo gli unici in campo gli unici che siamo partiti e siamo partiti con determinazione perché siamo il partito che non soltanto è più in grado di mobilitare i militanti volontari ma è il partito che più di tutti farà questa campagna elettorale e attraverso la campagna elettorale rovescerà quei pronostici che qualcuno ci ha raccontato sbagliando nelle settimane scorse e sono felice di essere qui oggi con Silvia proprio perché oggi stiamo inaugurando qualcosa che due settimane fa ci avessero detto guarda che fra due settimane sarete al caldo qui al Portonaccio e sarete qui a inaugurare appunto la casa dei volontari penso che pochi avrebbero immaginato tutto questo ebbene in dieci giorni Silvia quando le ho telefonato subito dopo la caduta del governo quando ho capito che si correva le elezioni ho pensato semplicemente che Silvia sarebbe stata la persona migliore per farlo perché lei ha creato tutto questo a Milano ha creato tutto questo in tante città del nostro paese e stiamo cercando di mettere tutto questo insieme alle tante altre città a partire da Roma dove questo lavoro è stato fatto e l'avete fatto benissimo oggi tutto questo deve diventare il massimo dell'efficienza della rapidità e del successo perché non abbiamo tempo rispetto a tutte le altre campagne elettorali che abbiamo fatto questa campagna è una campagna che non ci dà tempo noi dobbiamo essere determinati efficaci efficienti di corsa fare le cose per bene ma farle anche un po' di corsa ed ecco perché questa prima campagna che è in tutta Italia già è un primo messaggio importantissimo con le posizioni più importanti i temi fondamentali che noi stiamo portando avanti ed ecco perché qui voi trovate in ognuna di queste nostre affissioni trovate tutti gli strumenti per partecipare a questa chiamata e questa chiamata a essere tanti e a sapere quello che io ho detto fin dall'inizio la settimana scorsa in una intervista questa campagna la vinceremo se avremo centomila volontari che faranno quello che ci disse nelle sue ultime parole Enrico Berlinguer casa per casa strada per strada azienda per azienda persona per persona questa è la campagna elettorale che noi faremo andando a parlare con le persone a incontrare le persone sì poi ci saranno anche tutte le altre attività mediatiche social ma guardate la campagna elettorale si vince se si incrociano gli occhi delle persone allora si convincono le persone ma se non siamo in grado di farlo noi non ce la faremo ecco perché sono così contento che dopo 12 giorni siamo qui ecco perché sono così contento che Silvia abbia già cominciato il nostro mitico segretario caso è stato immediatamente all'altezza ed è partito subito in quarta oggi 2 agosto siamo pronti per partire qui sapendo che abbiamo davanti 50 giorni e in questi 50 giorni non dobbiamo perdere nemmeno uno anche perché come ha detto Silvia alla battuta solita che io ho sentito da parte di tanti snob che mi hanno detto mica andrete a rompere i coglioni alla gente sotto l'ombrellone io ho risposto guarda che di gente che non va sotto l'ombrellone d'estate ce n'è tanta di gente che rimane nelle periferie delle nostre città e noi andremo a parlare chi è lì andremo a recuperare soprattutto una dinamica di relazione con le persone a superare quelle solitudini che rappresentano da sempre l'antipolitica e rappresentano da sempre il motore del populismo il populismo vince di solitudini noi dobbiamo recuperare e superare metterci tutta quella empatia e quelle relazioni possibili oggi fatemi dire una cosa su questo è una giornata anche un po' particolare per un motivo molto semplice al di là poi delle tecnicalità degli accordi dei non accordi oggi abbiamo fatto un'intesa importante con azione e più Europa domani incontrerò domani incontrerò sinistra italiana e i verdi domani stesso incontrerò poi impegno civico ci siamo parlati in questi giorni con coloro che sono al centro del progetto della nostra lista per un'Italia democratica e progressista ma fatemeli ringraziare fatemi ringraziare da qui innanzitutto una persona che rimarrà per sempre nella storia del nostro paese perché è la persona che insieme al presidente del consiglio Conte insieme al ministro del tesoro Roberto Gualtieri ho visto la ministra Paola De Micheli che era qui insieme a quelli di quel governo insieme al presidente delle regioni come Nicola Zingaretti ebbene c'è stata una persona che ha fatto un lavoro straordinario che si è assunto le responsabilità più difficili quella persona è il leader politico oggi nostro stretto alleato di articolo 1 Roberto Speranza al quale voglio da qui dare un grandissimo abbraccio e un grandissimo saluto insieme ad articolo 1 ed evidentemente insieme a Demos saluto il segretario di Demos Paolo Ciani sono stato al loro congresso l'ho applaudito a eletto segretario ai socialisti di Enzo Maraio e a tanti altri che insieme a noi faranno questa campagna elettorale ma oggi sapete perché oggi è una giornata importante perché fino a oggi in queste pazzi dieci giorni in queste pazze due settimane si era alla fine diffusa un'idea guardando i sondaggi e guardando il fatto che per via delle scelte che Conte e Cinque Stelle hanno fatto sulla caduta del governo Draghi evidentemente il rapporto si era interrotto ed era passata l'idea che noi fossimo sì molto dignitosamente in campo con le nostre idee ma in campo per partecipare non per vincere e su questa idea siccome noi lo conosciamo come è fatto il nostro paese il nostro paese è un paese che facilmente col naso va a vedere chi va a vincere e che quindi non ci mette niente poi per mettere le vele al vento per avvicinarsi e per anche rispetto alle persone alle quali aveva detto no quelli mai no però forse e e invece oggi è successa una cosa importante perché non se l'aspettava nessuno nessuno ci scommetteva ed è il motivo per cui ci abbiamo tutti messo tanta pazienza tanto impegno tutti ci abbiamo messo spirito costruttivo Carlo Calenda compreso noi abbiamo fatto oggi un accordo faticoso difficile ci siamo arrivati ma l'abbiamo fatto per un motivo molto semplice guardate e il motivo per cui oggi abbiamo fatto questo accordo e sono sicuro che domani faremo altri passi avanti importanti è che noi abbiamo il dovere morale nel nostro paese di presentare un'alternativa vincente a queste destre essere in grado di offrire all'elettorato italiano una proposta politica convincente e credibile la legge elettorale la conosciamo tutti è una legge elettorale che obbliga ad aggregazioni se ti aggreghi te la giochi se non ti aggreghi partecipi che è importante il voto è importante anche in termini di adesione a una testimonianza però attenzione attenzione noi abbiamo di fronte in questa campagna elettorale non sfumature di italie diverse io vorrei che voi prendeste ognuno ognuno di quei manifesti guardateli tutti su ognuno di quei manifesti se vinciamo noi è il sole se vincono loro è la luna su ognuno di quei manifesti se leggete lì il manifesto chi studia in Italia è italiano se vinciamo noi chi studia in Italia diventerà italiano se vincono loro sarà di nuovo una chimera che prometteremo ma che non saremo in grado di realizzare il manifesto sull'Italia rinnovabile supprima l'ambiente noi abbiamo messo in campo delle idee che si sono tramutate in voti concreti al Parlamento Europeo è qui presente il nostro capogruppo al Parlamento Europeo Brando Venifei gli facciamo un grande applauso a lui e a tutti i nostri parlamentari europei che hanno fatto in questi mesi un lavoro straordinario perché perché è lì che si prendono le decisioni importanti sul nostro futuro a favore di un ambiente che noi vogliamo salvaguardare dall'altra parte il nero fossile dalla nostra parte la salvaguardia dell'ambiente per non parlare di tutti gli altri temi temi fondamentali e i temi che hanno a che vedere con il futuro del nostro paese voglio terminare proprio su questo punto noi vogliamo un'Italia che sia il cuore dell'Europa che ha dato i soldi del Next Generation EU noi vogliamo un'Italia che sia il cuore di questa Europa della solidarietà dall'altra parte si è messa insieme una coalizione basata su Salvini e Meloni che è una coalizione che in Europa ha quattro grandi alleati i quattro grandi alleati di Salvini e Meloni sono Marine Le Pen in Francia i post franchisti di Vox in Spagna Orban e il suo partito nazionalista e Filoputin Ungherese e i polacchi di Kaczynski ci sono tante cose che legano questi sei partiti questi quattro e Salvini e Meloni ce n'è una che riguarda ognuno di noi questi sei partiti hanno tutti e sei votato contro qualunque scelta che poi ha contribuito a portare i soldi europei in Italia in Spagna per combattere la pandemia Next Generation EU c'è stata perché l'abbiamo voluta noi loro hanno votato contro ogni passaggio e questo elemento ci dimostra come la differenza tra un'Italia un'Europa della solidarietà e l'Europa delle patrie nazionaliste come la vogliono loro è una differenza assolutamente abissale e radicale vorrei che su tutto questo fossimo consapevoli della posta in gioco qui si incontreranno i volontari che andranno a parlare con le persone dai quali dipenderà il futuro della nostra capacità di convincere tutti io sono convinto che con la scelta di oggi noi abbiamo rovesciato assolutamente il piano della campagna elettorale alcuni ci hanno detto e mi hanno detto nei giorni scorsi ma quelli hanno già deciso voi quanto tempo ci mettete e io mi sento di rispondere a come ho risposto in questi giorni guardate decidere come hanno fatto loro è facile si sono incontrati tre parti due di queste tre sono arrivate all'incontro con la bandiera bianca alzata si sono arresi Berlusconi e Salvini si sono arresi alla Meloni per arrendersi basta un minuto non c'è bisogno di nessun negoziato per arrendersi e questa resa senza condizioni semplicemente per poi spartirsi i posti di potere io lo voglio dire a Salvini che in questi momenti è lì che chiede alla Meloni per favore mettiamoci attorno a tavola e cominciamo a dividerci ministeri sottosegretariati guarda che la pelle dell'orso non soltanto non l'avete ma non ce l'avrete nemmeno il 25 di settembre perché le elezioni le vinceremo noi anzi incontratevi e spartitevi pure i ministeri virtuali noi andremo a parlare con i cittadini e otterremo i voti e soprattutto otterremo il consenso e l'entusiasmo e l'appoggio dei cittadini italiani allora voglio chiedervi veramente con il massimo di impegno di fare esattamente come un anno fa in quella straordinaria campagna del nostro sindaco di Roberto Gualtieri quella campagna che è stata una cavalcata straordinaria e affascinante anche quella Roberto un po' di corsa l'abbiamo fatta perché mi ricordo quando partimmo e poi insomma l'abbiamo corso ma siamo arrivati alla fine assolutamente bene anche quei tempi supplementari e l'abbiamo vinta e poi voglio anche dirvi una cosa e la voglio dire in conclusione io sono particolarmente grato e posso anche dirvi che non so se l'avrei fatta come la sto facendo così determinato e convinto questa campagna elettorale se non mi avesse detto sì una persona alla quale io ho chiesto ci devi essere e devi essere al mio fianco grazie Nicola Zingaretti grazie Nicola Zingaretti perché la nostra comunità è una comunità di persone che si passano il testimone e che guardano nella stessa direzione persone che hanno caratteri diversi caratteristiche diverse ma questo qui è il partito democratico non è il partito di Letta così come non è stato il partito di Zingaretti e dopo di me ci sarà una segretaria sperabilmente o un segretario e non sarà il suo partito perché questo è il partito di cui noi siamo orgogliosi è il partito democratico che è il partito che più di tutti ha il senso profondo di questa idea di comunità e fatemi dire un'altra cosa alla quale tengo tantissimo dopo tanti anni in cui il nostro nome facevamo fatica perché era controvento e santo cielo noi siamo orgogliosi di chiamarci partito partito noi siamo il partito democratico e questo partito democratico porterà l'Italia ad avere un governo che sarà all'altezza delle aspettative degli italiani grazie avanti così andiamo a vincere con tutti i volontari grazie forza